Kimbo è l'emblema dell'espresso napolitano nel mondo e si presenta qui alla 41esima edizione di Ossi in grande stile con uno stand rinnovato e suddiviso in aree tematiche. Come avete pensato il vostro spazio? L'abbiamo pensato per poter portare direttamente a tutti i nostri operatori amici e partner la nostra proposizione che è diventata molto larga e soprattutto molto ben confezionata nei singoli componenti. Se voi dopo fate un giro anche sul banco, verificate un banco abbastanza lungo proprio perché vogliamo dare lo spazio giusto a tutti i nostri prodotti. Qui siamo in doppia veste, veste ORECA, veste OCS dove abbiamo portato molte novità. Nel settore dell'ORECA proponiamo il nostro bio che sempre di più ci viene richiesto dal mercato non solo italiano ma anche estero e soprattutto estero dove questa tematica è sempre più sentita ma a dire la verità anche in Italia sta cominciando ad affermarsi. Invece nel mondo dell'OCS dove abbiamo una serie di novità importantissime non per ultime le capsule con i solubili per offrire ai nostri partner la possibilità di uno scontrino sempre più ricco. Quindi nuove opportunità di consumo e una battuta di cassa sempre maggiore. Grazie a tutti.